Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo diciamo video breve perché adesso ora voi se questo short short diciamo si short arriva subito in pochi minuti vi do una mezz'oretta io faccio il video sui pokemon ok ragazzi e se quello dei pokemon che caricherò sempre oggi oggi sono già usciti ben due video andate a vederli poi vi lascio il link in descrizione e raccomando andate a vederli la spiego tutto e salutato pure dei miei amici guarda guardate ragazzi di riserva ciao alessio ciao valerio anche ciao giorgio e ciao joseph ciao simone sono dei grandi amici e ragazzi se questo video arriva a un like almeno in mezz'ora io porterò questo video niente ragazzi ciao ciao iscriviti al canale e lasciate la campanella e attivate la campanellina e lasciate like ciao ciao